L'epurazione è avvenuta, sono una decina gli ex leghisti forzati e Flavio Tosi sembra aver ricevuto l'investitura di vice Maroni all'interno del partito. Un balletto di poltrone che farebbe pensare ad un ruolo politico di Luca Zaia, che ripete che lui vuole restare amministratore. Che sia un modo per smarcarsi da un partito che evidentemente lo ha deluso? Io penso una cosa, che io ho solo una parola, la parola ho data ai Veneti. Io ho fatto un accordo solo con delle persone che si chiamano Veneti. C'è un programma che voglio far rispettare fino in fondo, sono estremamente convinto che i ragazzi e le ragazze della mia maggioranza saranno solidali con quel programma, non ho i polsi che mi tremano, si va avanti per questa strada. Poi chi vuole fare politica, vuole dibattere, lo fa fuori dall'amministrazione regionale. Questo penso che sia una cosa lecita, ma lo si fa fuori dall'amministrazione regionale. Per la sanità volevo dirvi che continuo a leggere di notizie che non sono vere. Per cui siamo un po' preoccupati perché i Veneti, il dato concreto che noi dobbiamo dire è che la spending review, cioè il taglio nazionale, è stato di 1800 posti letto in regione del Veneto. 200 li abbiamo recuperati con la mobilità sanitaria, cioè lo Stato ci dice, ve ne tagliamo a 1800, ma 200 ve li riconosciamo perché c'è gente che viene da fuori e quindi si va a 1600 posti letto. Dei 1600, 1200 li recuperiamo con gli ospedali di comunità. Cosa significa? Che il lungo de gente è inutile tenerlo in un ospedale che costa 500-600 euro al giorno quando possiamo avere un ospedale dedicato a lui che è anche più compatibile con la sua patologia. E quindi 1600 meno 1200 fa 400. Quindi il taglio di 400 posti letto è un taglio che suddiviso su 75 ospedali in Veneto significa 6 posti letto per ospedale. Questa è la tragedia Veneto. Nel senso che spesso si gioca con i numeri e si fa passare l'idea che i Veneti dovranno farsi curare sulle tende da campo o sugli accampamenti. Finiamola con queste farse. Anzi io direi che d'ora in poi mi guarderò bene anche di controllare la divulgazione di dati sbagliati perché ho l'impressione che ci siano tutti i presupposti anche per il procurato allarme.